Let's get it guys, se vuoi acquistare skin e v-bugs mentre supportare il paurino nazionale ricordatevi che potete scrivere fanatic trattino in mezzo power scritto ovviamente col 3 al posto dell'e in supporta un creatore, lo trovate in basso a destra nell'item shop di Fortnite ogni tuo futuro acquisto su Fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi ragazzi Let's get it boys qui vuol dire un buon allenamento se sei forte, vediamo vediamo, potrebbe essere infatti quello che dicevo io, può essere un buon allenamento a questo evento a a Grazie a tutti Grazie 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 Sulla gambina Che l'ha staccata quella gambina Manco una cura Mamma mia ragazzi Manco una cura Manco una cura Salvo Hai no c'è le schede girate bravo questo qui a giocare complimenti era bravo però diciamo le scale girate non so per quale motivo ciao ho preso le ground e poi ho le scale girate verso di lui non so per quale motivo le scale mi erano girate cazzo di male e Grazie a tutti. 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 Questo era un bel game, questo era veramente un bel game. Let's get it.